forse mi conviene pusciare c'è stato uno di uno di uno no ragazzi ragazzi sono tornati su fordate ed è tornato pure ferro in versione competitive quindi carichi che prenderò le sberle perché sono sicuro che le prenderà no per nulla fidati che demolirò la lobby anzi obiettivo ragazzi vincere con 20 kill ma non ne fai 20 singolo sicuro che in un torneo succederà mai come cosa ma non è forte te lo dico non è un botte intorno non ci sono i botti ero bello è vero lo sapevo 57 però non è una capiva c'è una capita può fare non ho lasciato un po ma cosa ha fatto questo solo era una challenge non giocare col pompo era un voto non lo so però ragazzi siamo vivi siamo vivi e siamo vegeti sei vivo nessuno guardano te noi siamo qua dei vegetali siamo vegeti come un pesce va bene va bene però dovete appunto essere contenti comunque ragazzi un piccolo dolore alla mano vorreste spiegare voi l'aneddoto che appena è successo hai creato uno schiaffo al tuo cane no 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 ragazzi quando me lo spiegherà me allora prima poi la chi dopo lo spiegano magari concentrati prima prima attento buona poi andare via anche voi a ti do un consiglio ferro paghera mi tra niente questo come gioco come sta giocando davvero se ti fa fuori quello di vergognare a vita te lo dico il muro è suo ci siamo siamo ancora in vita ragazzi ci siamo a comunque spieghiamo perché hai la mano rotta vero e ragazzi diciamo che prima stavamo facendo un video sono morto e nello sclerare perché oggettivamente uno muore e sclera un minimo dovrebbe dire tipo cavolo che sfortuna il proprio anche questo cavolo che sfortuna è stato un po troppo cattivo e mi ha tirato un cazzotta tutte le cose che aveva davanti se c'ero io mi tirava un cazzotto oppure a me vero e mi sono fatto abbastanza male ma siamo vivi quindi ecco dobbiamo demolire la lobby allora rega ci sono miliardi di persone qua davanti a me questa cosa però non mi piace in realtà perché a me piace vederti crepare sicuramente pure a me pure io voglio vedere lo sclerare come prima non lo sai il mento ok raccogliere o poi smaccare una scrivania dai dai ti prego dai 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 che buono è un torneo non si possono fare così tante partite quindi devi farla adesso la chi se non lo hai più ma ci sono 87 persone uno dietro di un altro davanti e allora quello è un tizio da uno di vita me ne sono scappato più veloce di non so chi vera ve lo giuro ragazzi che sono stato mongral in questa situazione fermi no sopra vita fratella sei presa con me tu vero io ho paura sì sicuramente best e guarda 14 o meno di persone è normale che lui faccia di più di me col pompa è la medicina dai ma ragazzi non posso fare così poco rianima e che ricarica rianima rianimo best che è morto troppo abituato aiuto una situazione di sì veramente ecco l'hai detto te best io adesso devo andare solamente a prendere dei colpi o quattro colpi più li uso pure faccio schifo oggi allora ragazzi un attimo di ritirata dire che ci può stare come cosa no perché un po una una coda di paglia io vorrei andar bene in un cespuglio rimanere lì per tutta la partita se fossi ok sì ma io non se tu fossi me se tu fossi in te scusami perché io non vado ci sto un tizio ma è quello di primo questo qui ti sta cercando da tutta la partita una macchina non sei un essere umano fino adesso va bene questa cosa non è assolutamente vera ma che cacchio ma che non muore un nome se moriva da questo ferro e me ne andava ora mentre questo non era male è come come per l'unica cosa che diciamo che avevo un piccolo vantaggio ovvero che l'avevo appena schiacciato con l'auto comunque ragazzi vi sto un po sbalordendo perché diciamo che io quello che vorrei fare sbalordirvi vabbè qua te è data un po di fortuna però l'unica cosa che mi ha sorpreso sinceramente è che tu sia ancora vivo di solito saresti già morto a questo punto no no questa cosa non è vero però diciamo che di solito una persona normale ma io non sono normale lo si sa sarebbe già morta in questa forza appena detto ma io da quando lo conosco io dico fratello tu non sei normale però non mi ascolta mai almeno che adesso l'ha capito ma non sono normale è una cosa positiva cioè nel senso io si è molto positiva comunque ragazzi mi sono rotto le scatole di star dietro un muro adesso è il momento di andare a pushare dare una bella sistemata anche se in realtà ragazzi il mio lutto e non lo permette veramente perché ciò dieci colpi pop e in tre di mitraglietta fermi da dove stai facendo la citazione al bimbo che diceva tre colpi assalto cinque pompe potrebbe potrebbe essere come potrebbe anche non essere allora io però l'unica cosa che so che qua c'è stata una persona io non andrei di sopra se fossi inter fratello forse neanche io andrei sopra e non so perché l'ho appena fatto che mi ragazzi aiuto attento potrei tirarti uno scindone potrebbe arrivare da un momento all'altro è un capo di fogna perché cos'era quell'urlo che era per farmi lo scindone ecco ragazzi bella cosa se ne è andato via altissimo che cavolo in teoria signori di temi sa e ho visto un movimento di un fantasma vedo neanche si è dietro di me non ho paura dimmelo non lo so si pensi si forse era la costruzione che si stava costruendo non lo so allora vabbè faccio finta di nulla dai eccolo l'abbiamo visto nettamente non puoi guidare invece sì madonna mia è bloccato come un pesce nel box o nel baglia ai a box ok fermi ma abbastanza facile questo questo non vorrei direte ma si chiamava tua madre ma no ma va proprio ma veramente ma in realtà essere una decisione può a complimenti bel fermo si chiamava così no 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 l'hai detto a me può ha capito non è molto furbo a buttare la madre di ferro comunque ragazzi nuova persona in fondo quella però la seratina tattica di te di andare a pusciare il recerto fra un'altra un'altra cosa orrenda può a queste questo no no hai perso ma no però muore da 321 rischiare di morire così ma stiamo scherzando ma e poi perché c'era un tizio al mio posto ragazzo non lo so fratello se c'era lì fuori molto se è quello di prima dove sei scappato ragazzi con la gente entra in ogni mio box ma l'avete notato questo e poi hanno tutti la skin tryhard ora dei supereroi schifosi si sono tutti dei cloni ma ragazzi l'unica cosa è l'unico non clone sono appunto io e devo veramente vincere la partita per dimostrare che non c'è bisogno della skin dei supereroi per vincere c'è bisogno di essere ferro invece allora ragazzi c'è un tizio qua sopra di me se io dovessi spaccare per sbaglio sta cosa lui arriva io direi guardate la tecnica è arriva arriva facco prima questo o ecco ma che va beh è quello di prima basta flick mic di poli ferro a testo ma le notte che sono tutti uguali questi qui tutti ragazzi ma questa stessa anche questo con il supereroe ragazzi ma dove siamo finiti scusatemi siamo in una cosa di supereroe in una programma tv di succede veramente ragazzi che cavolo ci posso fare io tra i giardoni vogliono fare i figli giocano tre ore al giorno poi non stanno neanche tirare un colpo in testa a qualcuno e diciamo che non è che non è che tu lo sai far molto bene beh io dimostro di essere un abbo con il mio palino ma sotto sotto molto solo un po più sotto del molto sotto che detto però potrebbe non lo è mai nella vita best e lo dico io comunque ragazzi fermi ma ci sta ancora gente la che fai tabù di orca vacca ragazzi stavo cadendo ma è andata bene è andata bene direi di andare a push a questi tizi ragazzi che stanno affettando da prima scambia marini sciappare evitando di fare sky base che sono ti buttano giù e ci lascia vero beh tu hai molta cosa sky base io sono il king delle sky base modestamente quindi te la consiglio se vuoi no 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 e anche consigliare se c'è sì porca vacca si è esatto mi consiglio di andar via pure io per i ragazzi mi ha rubato la jump questo questo povero ragazzo fermi povero capigliato è venuto quello che tu fra zero non l'hai stato neanche una volta faccia schifo ma fermi non mi ha preso l'ai vero no mai nella vita ne preso 24 punti e non ho mai visto per 24 punti non ho mai visto ferro vivo in top 15 e diverso vabbè ragazzi ma adesso mi state criticando poi dovrei allora da adesso ve lo giuro ragazzi lo prometto al mio team vi svalor dirò ragazzi dimostrerò veramente che sono il più forte di questo team si può dire un attimo di un giro in a me sulla scala hai visto allora fermi fermi fatemi tirano unita al tizio che cadrà e non è caduto che cazzo lo scusami vabbè facciamo pinta di nulla di quello che è successo in questa biscotti ciò non è biscotti sapete che travisco tre biscotti per favore allora comunque io poi li faccio cadere dato che abbastanza nel manca altra scala quella line alto non è vero manca qua in realtà è esatto quello che non è in alto e poi fatto vedere tutto adesso però non è nessuno perché ciò sotto c'è un fiume quindi si vero e sapevi jump 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 via 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 avanti no 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 aiuto aiuto ragazzi allora se a questi li prendo devo prendergli la safe sapete cosa significa no che io da adesso mi piazzo quagli rompo le scatole spammando ma ora è ancora dietro ma c'è qualcuno che si è piazzato più in altro i tecnici stai attento che non lo dà o mio caso da dove ho il cazzo dal buco di qualcosa quello della bocca aveva idea di quello il mio cuore si era bloccato per un secondo fermi proprio per mi ce la faccio già faccio dai cambiano si è ancora con noi basta chiamarmi gabbiano chiamami ferro sono qua per una cosa io per riuscire a ferrano hai perduto il pompa veramente 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 che no fermi fermi ce la faccio ce la faccio ancora vai perché un altro tizio ma porca miseria ma non possono push armi in uno che evin belivo molto in sé fratello cento buono ucciso ce l'ho fatta ragazzi ma perché ridete scherzate ma riuscita a commentare quello che sono certe veramente il forte ma io già lo so che sei forte quando arriverà a livelli di pova potrà dire una cosa davvero sballordito davvero ma sballordito ragazzi sa mettere due scale di fila va bene dai ragazzi oggi oggi best e simpatico o no 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 mongran ragazzi e di sopra facendo un po lo strano oggi solamente per fare un po rabbia di ferro ma in realtà mi sta sballordendo davvero ragazzi questo mondo veramente non avete idea se uccide anche questo mi sballordito no 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 non mi lasciare ma basta cantare così a caso bene se ne hanno fastidio la faccia scoppiare i biscotti che vai via fermi fermi e per gli scorti per un colpo in testa ed è morto lo vedo ma non è vero ma c'è full vita quello di un colpo in testa che fa 200 è morto è più forte al mondo veramente guardate quanto bill da te va buono che non è questo qua passa il giorno in creativa così davvero ragazzi morri fratello più giampa giampa con cosa scusami con con i salto saltando infatti scusami no però c'era la corsa veloce vero allora ragazzi piccolo problema c'è il tre biscotti dietro che mi vuole sparare vabbè cosa a noi non ce n'è non regano a cuori avanti fratello a vedi che adesso che sto giocando bene mi dici ma noi scusami eh va bene ti voglio un attimo lo laceratissimo fermi 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 dovrei chilarlo questo vero un po di supporto morale veramente ma dove prendi le sberre trovate aia ma che cavolo per adesso le sberre date anche agli altri e infatti io per ora anzi forse l'ho più date che prese ragazzi tecnica di bella super prima di prima super bella cos'è sta roba di bella super prima cioè di prima super bella vabbè avete capito allora ci sta un tre biscotti facciamo la tecnica di prima che mi metto un attimo davanti alla safe e gli sparo appena arriva giusto la tecnica dei camperoni in poche parole potrebbe essere ma dovrebbe arrivare la dietro dovrebbe arrivare il tizio vero e non lo so ma è sparito ma che cavolo da quando la gente sparisce ma che vabbè facciamo finta di nulla ragazzi non ok ma nato la kill on let's go allora direi di già iniziare andare in sé i ragazzi e magari calma se voglio un tizio che allora o l'hanno cechinato non ok non l'hanno ok non è morto però la corrigo resto ce la puoi ancora fare 21 no 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 che fortuna ragazzi ma questo è un topo di fogna top di best e dito al box no 20 mamma mia ragazzi buona 25 gli avevo fatto rischiato di mortire per un attimo rega comunque nove che per noi e sette giocatori rimasti o meglio sei con me e quindi sette ce la facciamo ragazzi possiamo ancora vincere la partita la serata super mega epica fermi ragazza bene adesso 60 90 per noi io ripeto che era ferro e hai bevuto qualcosa è dovuto diventare fantastico verrebbe se ho bevuto qualcosa mi ha fatto diventare fantastico bella ok ok si fermi tutti per minuti perché fai vederli vedo un puntino nero eppure io vedo un puntino però diciamo che riesco almeno ai tarlo fermo ma che gli è cascata la metà ora in testa allora rega gente qua sopra ve lo dico quello devo per forza pushare e voi mi chiederete perché state nel tuo e non far nulla perché sei un mazzo pazzardo perché lui i ragazzi ha ma non c'è gente qua e no ma mi state dicendo veramente la cosa è una cosa assurda questo significa che io sono i naig non contestato ragazzi sapete no cosa significa poi almeno te che hai fatto un po di certo fra è che non sei sfidato da nessuno il terreno non è intestato da nessuno per la legge della democrazia italiana per la legge di paul di forte ecco comunque allora ve lo dico ragazzi questo è il mio terreno questo è il mio ai gay nulla me lo potrà togliere però sarebbe molto divertente no non sarebbe divertente comunque ci stanno persone là in fondo ragazzi fermi però per un milione lo venderesti il tuo contest di un co dove sei sbagliato tutte le parole io ho sbagliato tutti i colpi parla in italiano e beccherò i colpi te lo sicuro fermi ok ragazzi lucido l'ho uccido citrono bellissimo bene ma porca vacca unit veramente non è entrata vabbè fermi e deludere al dragone guarda quanto è lungo basta best però oppure tu ragazzi fatemelo killer in volo non rompete le scatole ma è una campione a capire che io non voglio ieri cresca ok ci abbiamo fatto a fermi un altro che ci arriva l'altro quella formicona è certo che in 50 buona ragazzi forse mi conviene pushare c'è stato uno di uno di uno ragazzi per la bush si vado a pushare va bene allora rega ve lo dico è l'ultimo non ho usato lo scudo facendo la bomba la scudo attento dai ferro doveva regare il carica di poppa ultimo colpo ultimo gli manca solo un colpo niente quello di volati a un uccello non capito come non puoi morire ferro non puoi morire te lo dico l'ultimo colpo è l'esco ragazzi vittorie siamo a 45 50 punti addirittura nel torneo rega super mega torneo per noi spero di averli sbalordito anche a voi da casa rega mi raccomando codice ferro nel negozio oggetti passate a iscrivervi a tutti i canali descrizione e ovviamente lasciate un bel pollicione in su ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao